17 maggio 2021 la fede e amore profondo dal vangelo secondo giovanni capitolo 16 in quel tempo dissero i discepoli a gesù ecco ora parli apertamente non più in modo velato ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi per questo crediamo che sei uscito da dio rispose loro gesù adesso credete ecco viene l'ora anzi è già venuta in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo ma io non sono solo perché il padre con me io ho detto questo perché abbiate pace in me nel mondo avete tribolazioni ma abbiate coraggio io ho vinto il mondo i discepoli sono presi da un certo entusiasmo dopo che gesù aveva detto loro della possibilità di chiedere nel suo nome qualsiasi cosa al padre e questi li avrebbe esauditi sono come coloro che si trovano nella nebbia e nell'incertezza sulla identità di gesù sulla sua missione le loro aspettative sempre cariche di speranze umane fanno fatica a crollare gesù è certamente il maestro è messia e la parola uscita dal padre ma la debolezza dei discepoli sta proprio nella incapacità di credere nel profondo e di collocare la fede nel centro della loro anima là dove scaturisce la decisione che sta salda nella certezza del riconoscimento che è colui che sta loro davanti è mandato dal padre nella loro anima ancora non si è radicata la fede e l'amore per gesù quello che esprimono e voglia di chiarezza esplicita le parole invece di confermare la fede profonda sono richieste per supplire alla mancanza di fede poiché la parola annunciata e risonanza e luce intellettuale di quello che l'anima sente e vuole cioè dio all'ascolto dovrebbe corrispondere una volontà pronta e fedele perché l'anima ha trovato finalmente risposta alla sua sete chi cerchi il padre lo può riconoscere nell'umanità di gesù poiché egli con le parole e le opere e con la sua stessa presenza di pace comunica la sostanza di dio padre ma i discepoli non sono ancora liberi da tante nebbie preconcetti la loro anima non riesce ad ascoltare con purezza le parole di gesù per cui se devono affermare chi egli sia certamente si trovano in imbarazzo solo pietro risponde con forza e precisione tu sei il cristo il figlio del dio vivente ma è tutta ispirazione di dio che egli si rimangia umanamente con la sua passionalità travolgente di fronte all'annuncio della passione del cristo dio non voglia questo non ti accadrà mai davanti ad un entusiasmo tutto umano ora sappiamo che tu sei tutto per questo crediamo che sei uscito da dio gesù deve dire loro apertamente anche sulla loro fede fragile e incerta vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo certamente il modo di misurare la nostra fede per dire che dobbiamo rimanere umili e non presumere è quello del prezzo della prova la fede in gesù è provata dalla misura dell'amore per lui a subire con lui le conseguenze della testimonianza della verità e dell'amore la solitudine di gesù è molto concreta egli viene abbandonato e separato da chi lo ama nel più profondo come sua madre gesù catturato e torturato condannato e trattato da criminale bestemmiatore è lasciato in balia di uomini malvagi e i suoi discepoli si disperdano ma la differenza tra chi fugge rinnega e tradisce e chi invece rimane fedele sta nell'essere con lui quando patisce accettando le situazioni di sofferenza nella solitudine che ci vengono date la condivisione profonda con il dolore di gesù è quella spada che trafigge l'anima della madre in situazioni materialmente differenti ma spiritualmente unite a gesù il mio soffrire nel mondo a causa della fede dell'aderenza alla verità all'onestà per cristo l'aderenza all'amore nonostante i colpi inferti quando quello che facciamo è per il bene proprio di chi ci colpisce e condivisione di amore e dunque di fede nel cristo saper credere quando tutto sembra contrario alla gloria è possibile solo con un'adesione di amore a gesù nel centro dell'anima per cui la fede si riveste di amore e non cede l'anima crede non perché abbacinata dalle luci delle speranze umane ma per la condivisione profonda della luce vera della verità che gesù incarna egli soffre per redimere le anime prigioniere e la prigione è costituita proprio dall'ignoranza delle cose così come stanno davanti a dio senza il velo della carne delle aspettative gli inganni del demonio ora parli apertamente dicono i discepoli ma il cuore nel profondo che si deve aprire alla sua parola il seme deve cadere nel profondo del terreno della nostra anima per essere protetto e fatto germogliare altrimenti il facile entusiasmo e le preoccupazioni lo fanno seccare rapidamente gesù capisce e compatisce e nonostante questo ci dice di avere pace in lui poiché aventi il mondo attende che la tempesta sia passata non ci lascia nonostante quello che siamo e ci fa liberi dalle bende della nostra umanità dio vi benedica